Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri di buon compleanno al piccolo Francesco Verdone che proprio ieri ha spento quattro candeline, a Francesco, ai genitori Nicola che è un nostro grande amico che lavora presso GM Car, quindi a Francesco, a Nicola e alla mamma Anna Maria, ai nonni Francesco e Maria. Vanno gli auguri naturalmente da parte mia e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Calcio partito il conto alla rovescia in casa Campobasso. Ultimi dettagli prima della presentazione della domanda di ripescaggio in Lega Pro. Domani a Liberti e il suo staff a Firenze per formalizzare il salto di categoria. Il Campobasso ha deciso, come si dice in queste situazioni, il dado è tratto. Domani la dirigenza rosso-blu partirà la volta di Firenze con l'incartamento pronto da depositare presso la Lega Pro. Il Campobasso tiene in giornata una riunione confermativa, poi passerà l'azione con la domanda di ripescaggio da consegnare, lo ricordiamo ancora una volta, entro le 19 di domani. Il presidente Gravina aveva chiesto come lavori necessari da compiere sulla struttura sportiva, il ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico e la realizzazione della videosorveglianza. Risolti tutti i problemi delle quattro torri faro che ora funzionano, i lavori per la posizione di 17 telecamere partiranno a breve. La società di Agnello Liberti sarà in grado di portare a Firenze soltanto la pubblicazione del bando dei lavori. Quindi ricordiamo velocemente anche gli esborsi che sopporterà il Campobasso, un contributo a fondo perduto di 250 mila euro, la tassa di iscrizione in Lega Pro di 50 mila, oltre ad una tassa di affiliazione per le società neopromosse di 45 mila euro. Il tutto garantito da una fideiussione di 350 mila euro, risorse reperite in qualche mese, a conferma di una volontà di chiedere il ripescaggio sempre avuta in serbo dalla società rosso-blu. Nel capoluogo esiste anche qualche scettico sporadico che nutre dubbi sulle capacità finanziarie della nuova società. Alla luce di queste ultime mosse del Campobasso, qualsiasi scettico può riporre i propri dubbi nel cassetto. Ogni ripescaggio verrà ufficializzato soltanto il 4 di agosto. I posti da colmare tra i pro sono aumentati. Il cuore del Como ha smesso di battere sabato scorso da 11 a 12 le posizioni da riempire in Lega Pro. Salgono le quotazioni anche di Taranto e Regina che sembravano essere tagliate fuori da qualsiasi discorso in un primo momento. In un ritorno nella vecchia Serie C sarebbe una svolta epocale per il calcio campobassano. Si tratta infatti di un campionato equivalente alla vecchia Serie C1 che il Campobasso non disputa dalla stagione 88-89. La storia narra che quella C1 fu persa in uno sciagurato spareggio a Monopoli contro il Catanzaro. Il calcio regala queste favole ma soprattutto queste clamorose metamorfosi di scenari. Tre anni fa Rosso-Blu in eccellenza, ora gli avversari potrebbero essere le blasonate Lecce-Catania. Citiamo fra tutte queste due squadre che militavano nella massima Serie fino a poche stagioni fa. Gli Ettenei fino a due campionati fa. Il nostro riferimento ai Salentini e ai Siciliani è del tutto simbolico in caso di ripescaggio. Infatti non è assolutamente detto che il Campobasso possa finire nel girone meridionale. Tra le ultime indiscrezioni di stampa di persone vicine a Gravina non viene esclusa una divisione est-ovest come accaduto qualche anno fa nella vecchia Serie C. Insomma la Lega Pro a Campobasso potrebbe risvegliare un indotto anche economico non indifferente. L'intuito e la tenacia di Aliberti e dei suoi soci stanno facendo il resto. Intanto sabato scorso sono state ultimate alcune visite mediche. Un gruppo di circa 20 giocatori è partito ieri alla volta di acqua santa terme tra questi solo 5 legati ufficialmente alla società Rosso Blu. Sentiamo molti tifosi nel capologo esprimere perplessità sull'esitazione nella formazione ufficiale della squadra. Ovviamente la Stasi che sembra regnare condizionata solo ed esclusivamente alla domanda di ripescaggio di Lega Pro e alla possibilità che venga accolta in un secondo momento. Tra l'altro vicino la società renderà note tutte le altre trattative già intavolate e in via di definizione. Tra l'altro lo stesso Aliberti ha mantenuto saldi alcune importanti amicizie nel mondo del calcio con operatori di mercato e con dirigenti di società che gli consentiranno di avere anche dei percorsi preferenziali nella giudicazione dei giocatori, ovvero giovani di un certo valore. La squadra della scorsa stagione è stata totalmente smantellata, fatta eccezione per i soli Grazioso e Lucchese. Il primo un 95, il secondo un classe 96. Novelli chiederà giocatori funzionali ad un modulo a tre punte. Curiosità intorno alla costruzione proprio del reparto offensivo, confermata l'indiscrezione che porta Adelio Calderini, ex Cosenza e Catania, con cui è stato iniziato un discorso. Ricordiamo pure che l'inizio della stagione è fissato per il 28 agosto, che il campionato sarà sempre denominato Lega Pro e che una delle novità non di primissimo rilievo sarà per la prossima stagione il cognome di ogni giocatore riportato sul retro delle magliette. Abbiamo parlato degli scettici ad oltranza, ma per correttezza va riferito che la stragrande maggioranza dei tifosi campobassani vive queste ultime ore prima della scadenza dei termini con grande passione, attesa ed un velato entusiasmo. Che ci fosse grandissima voglia di calcio a buoni livelli lo si è sempre saputo, adesso questa va sprigionata all'ufficialità del ritorno tra i professionisti. Calcio di Serie D prende il via giovedì in sede il ritiro dell'Olimpia agnonese. Due le riconferme, gli attaccanti Gragnoli e Castagna. Si è giocata ieri la finale del 26esimo torneo di futsal Petrella-Tifernina. Tigre Amico ha vinto 6-3 contro Eletro Più per la formazione di San Martino in Pensilis. Quattro gol di Vittorio Esposito e due assist. La finale della 26esima edizione del torneo di Petrella-Tifernina se la giudica Tigre Amico che supera in finale Eletro Più con il punteggio di 6-3. Decisivo vittorio Esposito per la formazione di San Martino in Pensilis con un poker personale. Dinanzi ad un gran pubblico andiamo con la cronaca del match. 45 secondi servono all'accelerazione di Esposito. Assist comodo per Bevilacqua che insacca da due passi il punto dell'1-0. Al terzo minuto reazione immediata Eletro Più. Corner di Pescolla, Cavaliere tutto solo, incrocia di piatto e pareggia i conti. Al quarto Andrea Caruso, il portiere di Eletro Più, entra in scivolata su Esposito e calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso numero 10, Caruso para ma non può nulla sulla ribattuta. Al settimo ancora da corner, i giallo-blu pareggiano, Pescolla per Caruso, controllo con protezione di palla e sinistro secco che vale il 2-2. Al tredicesimo il nuovo vantaggio di Tigre Amico, Esposito, dribbling e sinistro, conclusione deviata, sfera nel sacco. Al ventesimo, contropiede guidato da Marro per Eletro Più, finta dribbling e assist per Leccese che da due passi calcia fuori e fallisce il pareggio. Passiamo alla ripresa, arriva subito il 4-2 al quarto lancio di Abiuso, Esposito controlla, si gira e fulmina Caruso davvero in un fazzoletto. Passa un minuto e poker personale per il genio di San Martino in Pensilis, direttamente da calcio di punizione. All'undicesimo, sempre show del numero 10, serie di dribbling e sterzate, tutti lo seguono, nessuno lo riesce a fermare, poi la conclusione in precario equilibrio termina fuori. Al diciassettesimo prova a rientrare in gara Eletro Più, Marro in contropiede, dribbling secco, tocco sotto, palo esterno. Al ventiduesimo arriva il 6-2, contropiede in famiglia, vittorio per il fratello Bruno, assist comodo e rete. Nel finale, al ventisesimo, in pieno recupero, Eletro Più accorcia con il tiro libero di Pescolla che vale appunto il 6-3. Dunque si chiude quest'altra edizione gestita naturalmente oltre che dalla società sportiva Montagano-Petrella, anche dal par-ristorante-pizzeria Capo Cefalo, un'altra edizione che si conclude dopo un mese di gare vissute al meglio. La finale del torneo di Piatrella andrà in onda oggi alle 17 su Telemolise 2, canale 12, alle 15, alle 20.30 su Telemolise Sport, canale 112. Calcio regionale, scadono oggi le iscrizioni per i tornei di eccellenza e promozione. In eccellenza 2, i forfei sicuri, Rocca-Ravindola e Termoli 1920. In promozione nessuna rinuncia, anche il Cerce Maggiore dovrebbe aver risolto i problemi societari, mentre il petacciato ha effettuato il cambio di denominazione in città di Termoli e presentato domanda di ripescaggio. Ed ora la nostra rubrica Cartellino Rosso, anche questa settimana accogliamo la segnalazione di un nostro telespettatore e ci occupiamo del campo di calcetto in via Montegrappa a Campobasso, abbandonato al proprio destino. E poi fai la mia metà, ma se non parti, diventi in attrovo la mia tre quarti. E va, e va, non puoi saper piacere che me fa, magari qualche amico de consola. Così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce l'hanno sola, io te ce l'hanno sola, sola senza di me Invitiamo i nostri telespettatori a segnalarci altre situazioni simili Potete contattare la redazione sportiva tramite email all'indirizzo sportichiocciolatelemolise.com O tramite Facebook sulla pagina di Domenica Sport Prende il via oggi l'undicesimo boiano mondial calcio balilla, volley, pallacanestro, ping pong, subuteo Alcune delle discipline inserite nell'evento Valerio Facchino, coorganizzatore del torneo di calcio balilla, torneo boiano mondial ovviamente Insomma, parlaci un po' di questa specialità che, devo dire, soprattutto nella passata edizione Ha avuto un riscontro davvero incredibile Sì, ha avuto un riscontro veramente incredibile Quest'anno abbiamo cercato di ampliare ancora di più il torneo Penso che supereremo le 30 squadre, è una cosa epica Che non si verifica da anni, penso, oppure non si è mai verificata Infatti, insomma, un numero davvero importante di coppie Ma poi, come si diceva, anche il livello di queste coppie fanno poi il torneo Perché è davvero molto sentito Sì, è molto sentito, il livello è altissimo Quest'anno tutti quanti vogliono vincere questo torneo strepitoso Anche perché, devo dire, non avevo mai visto il calcio balilla Devo dire, vedendo una manifestazione Vedendola lo scorso anno, devo dire che c'è un impegno davvero importante Sudate molto, insomma Quindi, voglio dire, è davvero molto bello anche da vedere E c'era anche tanta gente a seguirvi Sì, c'era molta gente a seguirci sicuramente E quest'anno speriamo e ne vogliamo ancora di più Perché il pubblico fa sempre la differenza in queste discipline Perché anche non essendo uno sport molto conosciuto Però per noi è importante Infatti, infatti, così magari non è conosciuto come magari il calcio, il basket Il calcio, però c'è tanta gente che lo pratica Soprattutto nel Molise ci sono anche dei tour itineranti E dunque è anche bello riscoprire questi sport Sì, sì, ci sono dei tour importanti Stiamo andando anche fuori regione Per, diciamo, per allenarci ancora di più E arrivare in alto Un'ultima cosa Naturalmente tu partecipi anche, insomma Perché, va detto, nella passata edizione C'è stata un'uscita un po' prematura Quest'anno, penso, hai tutte le ambizioni per poter puntare alla vittoria Sì, sono due anni che, diciamo, ho perso la semifinale E quest'anno punteremo alla vittoria, dai E tra l'altro, in chiusura, devo dire che lo scorso anno Siete stati l'ultimo torneo a chiudere il Boiano Mundial Perché siete andati per le lunghe Sì, siamo andati molto per le lunghe La partita, no? Duravano un'ora e mezza, due Diciamo, siamo molto stancati Però alla fine è andata così Nuoto si è conclusa la seconda edizione della Termoli da Mare Presso Calasveva Beach Club Per la categoria assoluti maschile La vittoria è andata ad Alessio Matarazzo dell'Arrican Pescara Seguito dall'atleta di casa Michele Gianpietro Terzo posto per Romeo Morelli Nel settore femminile Primo e secondo posto per le sorelle Alessia e Giorgia Caruso Del Cus Salerno Terzo posto per Lorenza Piano Anche lei tesserata H2O Sport Tante le adizioni per la gara organizzata dalla società campobassana Anche quest'anno tappa del circuito nazionale Ai nostri microfoni De Salsi della Federazione Campana Siamo in compagnia di Raffaele De Salsi della Federazione Nazionale Nuoto Il Comitato Campano Una bella manifestazione anche oggi organizzata per il secondo anno consecutivo qui a Termoli Dall'H2O Sport Allora già come l'anno scorso ho detto L'anno scorso è già andata bene Quest'anno è andata più che bene Ma in attesa della partenza e dell'arrivo Sicuramente si vedranno i frutti della buona organizzazione Della H2O come presidente Massimo Tucci E della collaborazione del signor Giorgio Rannuzzi Che è un rappresentante della Turbo Sport Quindi complimenti a questa ottima organizzazione Io vedo già numerosi notatori A differente dell'anno scorso Che erano di meno Però ecco Successo l'anno scorso Ha fatto sì che Quest'anno c'è stata una evoluzione maggiore Mi hanno chiesto per l'anno prossimo anche di organizzare una 5 km Ben venga la cosa perché in effetti questa è una zona bella Che dovrà essere sicuramente conosciuta da altri notatori Io mi farò del mio meglio per portare qua anche campioni della Capri Napoli Che quest'anno e in questo giorno sono impegnati altrui per altre gare In previsione delle Olimpiadi a Rio Quindi hanno appuntamenti di allenamento in altre piscine e in altri luoghi di mare Quindi diciamo che la cosa si sta ottimamente sviluppando Grazie a questi signori che veramente hanno preso a cuore Questo movimento di gare in acque libere Che poi comunque fanno parte del Grand Prix federale Campionato italiano di nuoto fin Basket di serie B Operazioni di mercato per il Globo Isernia Due le riconferme per la squadra di patron Ricci Gabriele Maria Trigiani Cresciuto nelle giovanili dell'Isernia Sarà a disposizione di coach Sanfilippo Anche Matteo Melchiorre farà parte del roster del Globo Per la prossima stagione Lo scorso anno Melchiorre ha subito un brutto infortunio al ginocchio E il suo campionato è terminato in anticipo Da qualche tempo ha ripreso ad allenarsi E coach Sanfilippo intende dargli fiducia Ciclismo ieri si è svolta la quarta edizione della Coppa di San Martino in Pensilis Trofeo dei Tre Mari La gara esordienti primo anno sulla distanza di 28 km È stata vinta dal marchigiano Leonardo Mamerti di Porto Sant'Elpidio Esordienti secondo anno sulla distanza di 33 km Ha visto primeggiare il termolese Antonio Rocco Al femminile vittoria dell'abruzzese Sara Rossi Del team di Federico Tra le allieve e dell'Umbra Letizia Brufani Del gruppo sportivo Luciclone Tra gli esordienti A proposito della manifestazione Il presidente Belpulsi Architetto Belpulsi Organizzatore di questa splendida manifestazione È uscito in trionfo Un trionfo che forse nessuno si aspettava alla vigilia Soprattutto perché ha vinto un ragazzo monisano Ma rappresentare questa terra Questa terra che ha dato lustro al ciclismo Soprattutto voi come associazione Sant'Imodio State dando un lustro incredibile A questa manifestazione A questo sport che si è ritagliato Uno spazio importante anche nella nostra regione Risposta di pubblico Ma soprattutto di società che hanno aderito A questo trofeo E alla fine ha vinto lo sport Ha vinto anche un ragazzo termolese E poi la ciliegina sulla torta Infatti, grazie Questo per noi è una giornata molto particolare E veramente entusiasmante Devo dire che oltre ad avere tantissima partecipazione Abbiamo avuto praticamente Tutte le regioni del sud e del centro presenti Non ci aspettavamo questa partecipazione Per noi è stato un motivo di vanto E un motivo di vanto E poi chiaramente la ciliegina sulla torta Come effettivamente dicevi Con Antonio che ha trionfatto sul traguardo Una corsa a noi organizzata E ancora non più s'ultra Non più s'ultra perché questo ragazzo è cresciuto Sotto questa associazione la Sant'Imodio Sta crescendo alla grande È un ragazzo che si propone per dire la sua Nel mondo del ciclismo nazionale Noi ce la mettiamo tutto Noi prepariamo i ragazzi e poi li diamo ad altri Laddove ci sono possibilità Ci sono futuro Perché no Costruiamo una strada Che se loro sono capaci a percorrerla Noi ce la mettiamo tutta Affinché questi possano arrivare a percorrere quella strada In maniera serena E perché no anche da vincente Quarto anno a San Martino La cittadina vi ha accolto a braccia aperta Un segnale importante di chi nel Molise Riesce ad accogliere lo sport nel migliore dei modi Assolutamente sì Devo ringraziare veramente tantissimo L'amministrazione comunale Soprattutto Massimo Guaravato Il sindaco e nonché l'assessore Michele D'Alessio Che ogni anno si mettono immediatamente a disposizione Come se questa corsa ormai appartenesse a loro E appartiene anche a loro giustamente E quindi io sono felicissimo di questo E in qualche modo voglio dedicare anche a loro questa vittoria Devo ringraziare anche chiaramente tutti quelli che ci danno una mano L'intero staff organizzativo Perché ci vuole tanta gente Hai potuto osservare che non è una cosa di poco conto Curare la strada, proteggere la strada Fare in modo che tutto avvenga nella massima sicurezza Per noi è il traguardo a cui vogliamo e tendiamo Quindi un grazie alla Polizia Municipale Un grazie praticamente alla Protezione Civile di Campomarino E di San Martino in Pensis Un grazie soprattutto a tutti gli organizzatori Appartenenti allo staff della nostra società E a tutti quelli che praticamente ci hanno dato una mano in questo evento Prossima tappa, prossima manifestazione Adesso intanto oggi è stata una contemporaneità Con una gara importante che si è tenuta a Filiniano Di Mountain Bike Dove ho saputo che c'erano più di 300 partecipanti E questo anche per me è un motivo di orgoglio Perché da una parte la montagna, i sentieri E quindi la campagna, le due ruote grasse Dall'altra parte la strada In qualche modo abbiamo alimentato nel Molise Anche con lo sport ciclismo Un po' di Molise alle Olimpiadi di Rio de Janeiro Per l'Italia nella gara individuale dei 400 metri Nella staffetta 4x4 In gara Maria Benedicta Kidolu Padre nigeriano, madre romana Mentre il nonno materno, si chiama Vincenzo Petraroia Vive a Roma, ma è di cerce maggiore Aperte le iscrizioni al secondo fly show Il raduno di aeromodellismo internazionale Organizzato da Borghi d'Eccellenza Una manifestazione che richiamerà i Molise Appassionati da ogni parte d'Italia Ma anche d'Europa L'evento è patrocinato dalla Regione Vincenzo Cotugno Presidente del Consiglio regionale La Regione vicina All'Associazione Borghi d'Eccellenza Che a fine agosto Porterà in Molise Diversi appassionati Del aeromodellismo Dopo il successo della prima edizione dell'anno scorso La Regione Molise non poteva non essere ancora più partecipe E più presente alla seconda edizione In quel meraviglioso pianoro di Campitello Madese Dove l'anno scorso sono sfilati circa 3.500 Quasi 4.000 persone Con una manifestazione a grandissimo livello E' un modo sicuramente eccezionale per promuovere la nostra regione E le nostre bellezze naturali Possiamo dire quindi che il binomio sport O promozione del territorio turismo Alla fine è un binomio vincente Sempre Soprattutto quando poi è partecipato da tanti giovani E lo sport accumula E unisce E valorizza la nostra terra La Regione dà fiducia per l'appunto E l'associazione in questo caso a Borghi d'eccellenza Per crescere, per far conoscere il Molise Non solo a livello regionale ma anche internazionale Perché quest'anno arriveranno degli appassionati anche dall'Europa Quindi è un buon biglietto da visita Assolutamente bisogna dire un grazie E un grande applauso a Borghi d'eccellenza Per tutte le manifestazioni che fa sul nostro territorio Per la valorizzazione della nostra regione Delle bellezze del nostro territorio Quindi la regione non poteva che essere vicino E soprattutto supportare una manifestazione così bella Possiamo dire che siamo una piccola regione Però con tanta voglia di fare Assolutamente Tanta voglia di fare Ma soprattutto con tantissime eccellenze Con tante bellezze Il nostro territorio va solo Veicolato meglio a livello nazionale e internazionale Se ci crediamo io sono convinto che ce la faremo Perché abbiamo di che venderci Per tante e tali bellezze che noi abbiamo Basket in carrozzina Oggi a partire dalle 18.30 Presso il campo polivalente della scuola elementare di Cuglionisi In programma l'amichevole tra le formazioni della Fly Sportina In La Molise e l'amicucci Giulianova Calcio regionale si sta riorganizzando il Macchia Valfortone Anche nella prossima stagione Prima categoria con in campo i ragazzi del posto Il presidente Domenico Durante ai nostri microfoni Domenico Durante presidente del Macchia Valfortone Allora dopo una stagione che è terminata ai playoff Nel complesso anche positiva Siete usciti proprio ai playoff contro la FC Molise Però direi tutto sommato molto positiva Vi preparate alla prossima stagione? Sì stiamo già in piena attività Ci stiamo già preparando E siamo quasi a un buon punto Abbiamo fatto un ottimo campionato quest'anno Grazie a tutti i miei ragazzi, al mister e a tutti i dirigenti Che mi hanno dato una mano durante la stagione Abbiamo fatto la finale dei playoff E come risultato è andata male Però come incontro di calcio È stato un incontro molto bello, sportivo Da ambo le parti Ecco confermata anche la commissione di ragazzi di Macchia E di Pietracatella anche per il prossimo anno Sì senza dubbio Quest'anno ripartiamo alla grande Siamo a circa 23 ragazzi E senza dubbio faremo un ottimo campionato Obiettivo playoff anche per il prossimo anno? Se ci verranno li facciamo Altrimenti, ma penso di sì E poi soprattutto so che tu come presidente Sei un grande collante tra squadra, tifosi Un punto di riferimento per i tuoi giocatori E che insisti molto sul fair play Noi siamo partiti da quest'anno Nel mese di novembre Perché come tu sai Ho visto già l'altra volta Ho preso un'idea di un bravo dirigente sportivo della Basilicata Michele Benedetto Se mi consenti di fare il nome Dove da due anni sta collaborando Per il fair play fra le due squadre e l'arbitro Soprattutto perché gli arbitri quando vengono ad arbitrare Si devono sentire all'orovaggio Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport Buon pomeriggio